Magari di vedere la Roma alla fine della partita terza in classifica, siamo settimi, che è successo? Anche noi, anche noi, che purtroppo è andata storta, a un primo tempo comunque c'è abbastanza bene e potevamo fare la differenza e poi alla fine hanno fatto questo gol che ci hanno rovinato comunque il primo tempo poi il secondo tempo sbagliatissimo e dobbiamo risolvere questa cosa perché è importante, è fondamentale se vogliamo contare i primi posti e quello che vogliamo fare, quindi non molliamo e poi siamo lì e vinciamo il tuo test possibile perché fuori casa abbiamo questa difficoltà e non va bene.